Ho smesso quindi di respirare, rifratto le mani, imploso l'orecchio, la lingua arrotolata, così da non poter narrare questa storia nemmeno. Scomparse i loro sensi in un eclissi, negato a tutto e tutti, schivati passaporti e di controlli, finalmente non mi trovavano, ma potevano sentirmi, percepirmi, mi capivano. Ma i dati per vinti genuflessi hanno iniziato a pregarmi.